Il corso A è indirizzato a bambini della scuola dell'infanzia, infatti inizia con due lezioni che sono basate su delle storie da raccontare ai bambini per introdurre alcuni concetti molto importanti. La prima lezione realmente interattiva è la numero 4, dove viene introdotto tutto l'ambiente di programmazione e di linguaggio da utilizzare. La lezione inizia con un video introduttivo che contiene le indicazioni che daremo anche qua nel seguito. Ora, prima di passare al primo esercizio, andiamo un attimo all'ultimo solo perché contiene una struttura più generale per introdurre tutto l'ambiente di programmazione. Allora, in questa barra in alto potete vedere il testo dell'esercizio, cioè l'obiettivo da raggiungere. Il testo va letto, quindi o lo legge l'insegnante oppure anche il bambino in totale autonomia può farselo leggere da questo sintetizzatore vocale. Questo esercizio prova a risolverlo completamente da solo. Una voce un po' inquietante ma permette di procedere in autonomia. Spesso ci sono dei suggerimenti, qua ce n'è uno indicato da questo numero a fianco alla lampadina. Se premiamo sulla lampadina mi viene chiesta conferma se voglio questo suggerimento e qua viene dato il suggerimento che in questo caso coincide con la soluzione completa dell'esercizio. Ci sono alcuni casi in cui la descrizione può essere anche molto lunga e si riduce l'area sottostante e allora è possibile premere questo pulsante di meno e ottenere una descrizione più sintetica e avere più spazio sotto. Questa zona di sinistra è chiamata area di gioco dove i personaggi si muovono in base alle istruzioni che ricevono. Le istruzioni sono rappresentate da questi blocchi grafici in questa colonna verticale denominata cassetta degli attrezzi che contiene appunto tutte le istruzioni necessarie per svolgere questo singolo esercizio. Le istruzioni per poter essere utilizzate devono essere trascinate nell'area di lavoro ed agganciate con questo meccanismo magnetico una all'altra andando a costituire una sequenza di istruzioni. Se cambio idea e voglio eliminare un blocco posso prenderlo, trascinarlo di nuovo nella cassetta degli attrezzi che vedete si trasforma in un cestino e lo tolto di mezzo. Nel caso in cui io abbia diversi blocchi se prendo da sotto si stacca solo quel singolo blocco, se prendo da sopra vengono portati via tutti insieme. Nel momento in cui abbiamo completato il programma o anche se non l'abbiamo completato vogliamo vedere che cosa viene eseguito con quelle istruzioni dobbiamo premere il pulsante esegui. Premendo il pulsante esegui tutto questo programma viene passato all'elaboratore e viene eseguito dal personaggio qua nell'area di gioco. Viene qua indicato un messaggio d'errore che può essere letto o ascoltato e a questo punto bisogna andare ad aggiungere o modificare il programma in qualche modo errato. Allora bisogna premere il pulsante ricomincia e proseguire la programmazione. Ora passiamo al primo esercizio. Iniziamente la schermata è scura per farci concentrare sulla descrizione dell'esercizio che spesso molti alunni tendono a tralasciare. È vero che in molti casi è intuitiva ma in alcuni no quindi è importante leggere sempre qual è l'obiettivo da raggiungere. In questo caso in questo tipo di gioco con l'uccellino Angry Bird l'obiettivo è sempre raggiungere il maialino cattivo. Ecco abbiamo descritto questa struttura che abbiamo detto è sempre uguale in tutto l'ambiente di programmazione. L'unica cosa che cambiano sono i personaggi e il meccanismo di funzionamento di questi giochi come vedremo nelle lezioni più avanti. In questo caso non c'è neanche la cassetta degli attrezzi perché i blocchi necessari sono già tutti presenti. Abbiamo questo unico blocco con questa freccia verso destra e questo primo blocco giallo che è il blocco di partenza perché dice che quando si clicca su esegui si fa ciò che si aggancia di sotto. Quindi già la prima è un'istruzione. Quando si clicca su esegui si esegue quello che c'è solo e si prosegue. Si prosegue eseguendo quest'altro blocco. Eseguendo il programma ha fatto uno spostamento a destra e ha raggiunto il maialino. Qua ancora non c'è la cassetta degli attrezzi perché i blocchi sono già nell'area di lavoro ma così come sono non sono attivi infatti vediamo che sono molto sono di un colore più chiaro. Solo quando i blocchi sono uno agganciato all'altro diventano effettivamente operativi. Un blocco abbandonato così nell'area di lavoro sganciato dal resto è come se non ci fosse. Qua servono due blocchetti verso destra perché ogni blocchetto fa un solo passo. La grandezza diciamo delle caselle è data dalla dimensione dei blocchi intorno. Quindi qui vediamo che con un primo passo l'uccellino arriva qua con un secondo passo arriva all'obiettivo del maialino. In questo esercizio viene già proposto una parte di programma già scritto che corrisponde a quello eseguito nell'esercizio precedente cioè due passi verso destra ma poi bisogna andare verso l'alto per raggiungere il maialino. Quindi la cassetta degli attrezzi contiene solo questo singolo blocco che possiamo aggiungere a quelli già presenti. Ecco diciamo due parole sui blocchi. Questi blocchi grafici che si agganciano uno sotto l'altro rappresentano le istruzioni di un linguaggio di programmazione. Il primo concetto che i bambini devono imparare è proprio il concetto di istruzione. Un'istruzione è un comando non ambiguo precedentemente condiviso tra l'uomo e il calcolatore. Quindi un comando cioè rappresenta un'azione da compiere. Non ambiguo significa che viene sempre eseguito nello stesso modo. In particolare queste frecce ci dicono che il personaggio si muove in quella direzione di una sola casella. Quindi ogni volta che io uso un'istruzione con la freccia verso l'alto so che il personaggio si muove sempre di un'unica casella, sempre della stessa dimensione. Ed è fondamentale il fatto che il linguaggio tra la persona e il computer sia precedentemente condiviso perché non è possibile spiegare al computer con parole proprie quello che deve fare. Noi possiamo solo utilizzare il linguaggio concordato con la macchina. Il secondo concetto fondamentale che imparano è la sequenza di istruzioni ovvero questi blocchi messi uno sotto l'altro agganciati uno sotto l'altro che vengono eseguiti sempre in quel determinato ordine. Se si cambia l'ordine dei blocchi cambia il risultato finale ottenuto. Quindi istruzione e sequenza di istruzioni. In questo caso si ha un programma già scritto ma che contiene un'istruzione di troppo. Se noi lo eseguissimo vedremo che l'esercizio viene dato come corretto perché il maglialino è stato raggiunto però qua viene detto puoi risolvere o meglio usando solo quattro blocchi. Infatti qua notiamo che negli esercizi molto spesso viene indicato il numero di blocchi che ci si aspetta servano per svolgere quell'esercizio. In questo caso si deve riuscire a risolvere l'esercizio con quattro blocchi. Noi ne abbiamo usati cinque quindi abbiamo fatto un programma meno efficiente. Ce lo diceva già dall'inizio che c'era un blocco di troppo. Questo esercizio serviva in realtà per imparare a sganciarlo e buttarlo nella cassetta degli attrezzi. Però questa è una regola generale. Nel programmare si cerca di utilizzare il minor numero di blocchi possibili per creare dei programmi più compatti e anche più comprensibili. Ho prima dovuto premere ricomincia e poi qua il meccanismo è sempre molto simile. Dobbiamo aggiungere il blocco mancante. I primi due ci fanno fare due passi ma anche al blocco verso il basso. Ecco due parole a proposito di questi blocchi con le frecce. Tutto il corso A e anche il corso B utilizza questi blocchi che danno delle indicazioni come fosse una vista dall'alto e quindi si danno delle indicazioni secondo la propria prospettiva di destra e di sinistra alto e basso. Si vedrà invece che dal corso C in avanti le indicazioni saranno date considerando la prospettiva del personaggio. Ma questo si vedrà poi più avanti. In questi corsi per la scuola dell'infanzia e la prima classe della primaria si è ritenuto che questa vista esterna con la prospettiva del programmatore fosse più semplice da applicare per passare poi dalla seconda classe della primaria ad una vista con la prospettiva del personaggio. E questo è lo schema che abbiamo usato all'inizio per spiegare tutta la struttura che conteneva anche la cassetta degli attrezzi. Ormai sappiamo che basta dare due frecce verso sinistra per raggiungere il Grazie a tutti!